vecchio fidati di me se vuoi riuscire a conquistarla allora non devi pensare al sesso diciamo che ti è già capitato in passato o se non ti è ancora capitato ti capiterà sicuramente in futuro che magari noti una ragazza che ti incuriosisce e vorresti provarci con lei fidati che l'errore più grande che puoi fare è quello di andare lì a parlarci con l'idea di come riuscire a portartela a letto questo perché una ragazza percepisce quando pensi solo a quello e nella sua testa sai che cosa inizia a succedere che percepisce di essere trattata come un oggetto e non come una persona ora questo non significa che quando ci provi con una ragazza non devi parlare di argomenti un po' piccanti o di argomenti un po' più spinti semplicemente ti sto dicendo di non andare lì con la maledetta bava alla bocca questo è un errore che compiono la maggior parte dei ragazzi ed è colpa di questi ultimi se le donne hanno iniziato a pensare che gli uomini non riescono a connettere più di un nerone alla volta hai presente il detto tira di più un pelo di figa che un carro di puoi ecco questo detto con te non deve esistere se vuoi conquistarla e prima di spiegarti come provarci con una ragazza senza avere la bava alla bocca se ancora non mi conoscessi mi presento sono vita e insieme a johnny abbiamo creato questo canale che è social players un canale dove parliamo di dinamiche relazionali a 360 gradi sia per ragazzi che per ragazze e se vuoi conoscere sfumature che ci sono dietro le dinamiche uomo donna e viceversa ti consiglio intanto di iscriverti al canale e di attivare la campanella in modo tale che ti arrivano le notifiche quando pubblichiamo dei nuovi video tra l'altro abbiamo già pubblicato in passato e continueremo a pubblicare in futuro degli esperimenti sociali che oltre a essere di ispirazione sono anche divertenti quindi casomai più tardi prova a darci un'occhiata ma adesso veniamo a noi e capiamo quindi come riuscire ad evitare questo fatidico errore sostanzialmente quello che devi fare quando ci provi con una ragazza è quello di porti come obiettivo il fatto di volerla conoscere genuinamente cerca quindi di avere con lei una conversazione sana curiosa e piacevole agendo in questo modo riuscirai anche ad abbassare la tua ansia d'approccio perché il tuo cervello in quel momento lì percepirà di dover fare una cosa molto meno difficile quindi devi iniziare a pensare veramente così cioè io voglio conoscerti davvero non voglio scoparti voglio conoscerti e capire se può essere la donna giusta che può stare accanto a me stop e sai cosa succederà quando inizierai ad agire in questo modo che la ragazza riuscirà a scoprire la tua vera personalità il tuo vero te stesso e questo ti porterà a distinguerti da tutti quanti gli altri ragazzi avendo così maggiori possibilità di riuscire a conquistarla in maniera genuina e se questo video ti è piaciuto e desideri vedere altri contenuti di questa tipologia mi raccomando di lasciare un bel mi piace in modo tale da aiutarci ad espandere questa fantastica community noi ci vediamo al prossimo video